Tutto confermato, la settimana santa si farà solo con qualche piccolo accorgimento. Questo quanto è stato stabilito alla riunione in prefettura. Prima regola, su consiglio dell'ASP, presenti alla riunione, il direttore Alessandro Caltagirone ed il dirigente dello SPEMP Franco Iacono, tutti con la mascherina anche all'esterno. Le varie saranno disposte lungo il percorso in piazza e non tutta attorno alla fontana e da quella posizione partiranno. Il mercoledì santo per la real maestranza, la cerimonia della consegna del Cristo velato avverrà nella chiesa di Sant'Agata e non nella piccola cappella della Biblioteca Scarabelli. Nessun cambiamento di sostanza per il giovedì santo, probabilmente non ci sarà la fermata in via 20 settembre, ovvero la processione scorrerà. Il venerdì santo i fedeli accoglieranno il Cristo nero su via Lamedeo per evitare assembramenti nella chiesa del Signore della città e nel piazzale vicino.